Si parla sempre a Vicenza dovevo accantonare le critiche, qua dovevo accantonare le critiche. Io vado avanti per la mia strada, non mi disturba quel che si scrive, quel che si dice. Vado avanti per la mia strada e penso a cercare di portare un contributo positivo per il gruppo. Io credo che nelle fasi di mercato è normale che di qualcosa bisogna pur parlare, che siano fondate e infondate le voci. Sicuramente si è chiacchierato tanto, fortunatamente il mercato è finito e siamo qua e il gruppo è questo. Credo che la fiducia in questo gruppo debba essere piena anche per i risultati che sono ottenuti fino adesso. Pensiamo solo a cercare di centrare l'obiettivo che è fondamentale e lasciamoci alle spalle tutto quello che è il mercato. Un mercato che secondo me è troppo lungo perché si parla tanto e poi alla fine si conclude poco. Quindi secondo me bisogna cercare di restringere in una settimana, credo che sia più che sufficiente. Il treviso come credo tante squadre secondo me rispetto al giorno d'andata saranno diverse perché vuoi per mercato, vuoi perché comunque sia magari una serie di risultati possono far cambiare le condizioni anche psicologiche. sappiamo che incontriamo una squadra che secondo me ha dei buoni elementi, l'allenatore sappiamo che è un allenatore che lavora bene quindi dovremmo fare molta attenzione e cercare di prepararla come comunque credo abbiamo preparato sempre le partite fino ad oggi. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!